bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi anche oggi un bel po di novità per quello che riguarda il futuro di fortnite vedremo ragazzi alcune notizie sul pack che sta per uscire proprio nelle prossime ore vedremo anche dei problemi con tanto di rimborso e vi farò vedere anche una nuova skin liccata che ce l'avevamo davanti agli occhi e nessuno se ne è mai accorto prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali anche al secondo e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video news e allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi ed è un problema che riguarda tutti quelli che hanno salva al mondo è un post ufficiale di fortnite status più precisamente per le persone che hanno acquistato il bundle dell'orsetto robot meccanico chiamatelo un po come volete nonostante avessero il deluxe di salva al mondo la versione deluxe di salva al mondo è quella che costa più di 100 euro nelle prime ore dall'uscita della patch quando insomma è stato introdotto anche l'orsacchiotto alcuni di voi potrebbero averlo acquistato anche se in realtà doveva essere dato gratuitamente insieme agli 8.000 v bucks non vi preoccupate ragazzi perché arriva direttamente un messaggio ufficiale da epic games che rassicura tutti verrete rimborsati dei vostri 20 euro il prima possibile non so bene come facciano a rimborsarvi ho paura che ve li ridanno in v bucks ragazzi alla peggio ve ne andati 10.000 andiamo avanti con il prossimo argomento di oggi perché voglio annunciarvi che ieri nel tardo pomeriggio in nuova zelanda è ritornato lo shadow rising pack le ombre in poche parole un pack che era uscito nel precedente capitolo di fortnite e che vi ricordo è compreso di tre skin il falco solare sculli e ombra ammantata tutti ovviamente nella versione shadow rising 3 backpack e una copertura quindi dovrebbe arrivare indicativamente nel pomeriggio di oggi un altro pack come già è successo per il lava legend e per il frozen legend che ritorna dopo veramente tantissimo tempo se lo volete prendere ragazzi lo troverete ovviamente nella sezione dei v bucks della lobby e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché ci sono dei premi che forse anche sul mio canale twitch potreste ricevere come è già successo per le fncs della precedente season vi ricordo che ci sono due premi e se mi selezionano e mi danno i drop attivi vi basterà semplicemente guardare le mie live per poco 20 minuti mezz'oretta e assolutamente ottenere poi in game le ricompense ricompensa numero uno ragazzi l'adesivo di questa versione azzurra per la season delle nuove fncs e anche lo spray giustamente ragazzi come vi ho appena detto dovete semplicemente guardare tutti gli streamer che hanno i drop attivi e per chi volesse sapere invece quando saranno le fncs beh dovremmo avere un pochettino di pazienza perché fino ad agosto ve l'avevo detto non ci sono tornei competitivi di questo livello le prime fasi di qualifiche il primo agosto le seconde fasi di qualifiche il 2 agosto la 3 e la 4 rispettivamente l'8 e il 9 agosto le finali dal 14 al 16 agosto potrebbero però esserci dei cambiamenti in base a come un po la situazione mondiale di adesso ma secondo me queste sono le ufficiali e quindi ancora un po di pazienza godiamoci luglio e poi pensiamo all fncs e devo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché questa schermata di caricamento ce l'avete presente la si ottiene nel pass battaglia ed effettivamente ragazzi c'è qualcosa di particolare vediamo un po gli elementi abbiamo una skin che conosciamo abbiamo il piccolo miascolo un po come il bubble head è presente quelli che si mettono sul cruscotto che muovono la testa quando vai con la macchina abbiamo la macchina ma alla guida c'è un personaggio che non abbiamo mai visto perché mettere un crash dummies si chiama quindi un manichino per i crash test su una schermata di caricamento beh ragazzi perché questo manichino in realtà è presente in game non chiedetemi in che isoletta sia perché sinceramente non me lo ricordo assolutamente ma come vedete la skin è praticamente già fatta qua c'è la parte alta del busto nel cassonetto purtroppo invece troviamo braccia e una gamba e l'altra gamba invece la troviamo lì nelle vicinanze è lecito pensare che potrebbe essere una skin criptata quindi già presente nel game ma ancora non resa pubblica succede spesso e volentieri che magari alcune cose che non vogliono farti vedere non te le fanno vedere quindi sono abbastanza convinto che potrebbe arrivare anche l'omino del crash test come nuova skin e parlando appunto di oggetti volevo anche ricordarvi che nella patch 13.20 dato che ieri sono uscita sono uscito è uscito il set delle fauci non mi chiedete adesso come si chiamano con tanto di deltaplano leggendario ragazzi per la prima volta dopo tre anni di fortnite arriva un set raro con un deltaplano leggendario fuori di testa quelli di epic games ringrazio i ragazzi che hanno aiutato lo shop vi ricordo che ci sono invece degli oggetti che non hanno set e che quindi potranno essere acquistati singolarmente nello shop il primo è un backpack ed è il ditone classico da partite di baseball che ti metti alla mano il secondo invece è il trancio di pizza che si chiama tipo caeperoni una roba del genere davvero molto molto carino mentre abbiamo anche il doppio piccone con le caramelle che non fa parte di nessun set e terminiamo con questo piccone che non abbiamo mai visto io personalmente non l'avevo neanche visto quando vi ho spoilerizzato un pochettino di cose nella patch 13.20 quanto abbiamo visto i leak quindi non ha nessun set è molto probabile che arrivi singolarmente ma voglio anche dirvi un'altra cosa perché come sapete a parte il pack dello shadow rising che sta tornando a parte tutto il bundle di capitano america sta mettendo fuori di tutto in questa season vi ricordo che sta anche per arrivare il nuovo bundle degli spettri quello che ha le tre skin la gente del caos ash e il jolly solo che sappiamo che ci sono anche questi tre picconi che come vedete sono i rispettivi picconi di ogni skin e non saranno inclusi nel pack mentre invece saranno inclusi i tre backpack è molto probabile che come è successo per l'evento di star wars questi tre picconi vengano venduti in un pack completo non sappiamo ovviamente il prezzo ma è quasi sicuro che li ritroveremo tutti e tre assieme in un unico in un unico pack e chiudiamo con l'ultimo argomento di oggi ve la ricordate questa immagine che vi dico sempre di non prendere come ufficiale non è detto che sia questa abbiamo parlato due o tre giorni fa di un aggiornamento che stanno facendo quelli di ap games e che probabilmente arriverà un po più avanti con le patch ovvero sia la creazione di un madbox si pensava fosse un chest speciale che vi ricordo ha il 33 per cento di probabilità quando aperto di trovare bende medikit o un campfire quindi torneranno i campfire mentre ha il 50 per cento di probabilità di trovare scildini o scildoni è un chest a sé dedicato che non dropperà armi che non dropperà materiali quindi solamente cure in realtà arriva un piccolo aggiornamento ieri pomeriggio e come vedete in questa stringa di codice loot atena madbox il nome sarà madbox poi non sappiamo ovviamente se lo terranno anche per quando sarà pubblico per tutti ma la cosa che ci fa un pochettino più che è più interessante è che sotto la stessa cartella dei food box i food box sono quelle scatole che sono arrivate con questo capitolo che contengono dentro le gli ortaggi la frutta insomma tutto quello che potete consumare al volo e che vi da il oppure shield istantaneo quindi molto probabilmente non sarà un forziere ma è più probabile che sia invece una scatoletta che contenga solo le cure insomma ragazzi anche per oggi io ho detto tutte le news che c'erano vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali lasciate un bel like ea me mi trovate proprio adesso in live su twitch ciao io so che la volete la canzone ma siamo arrivati già a dieci minuti e 0 1 0 2 0 3 ciao ciao